Armato di coltello si sarebbe scagliato contro i poliziotti intervenuti in seguito ad una segnalazione di furto nel tentativo di guadagnarsi la via di fuga e sottrarsi all'arresto. Absalem Boubaker, 19 anni, tunisino, però alla fine è stato bloccato assieme ad altri due suoi connazionali. Shazil Salam, di 30 anni, e Mahoua Ben, anche lui, di 19 anni. I tre avevano messo a segno un furto introducendosi in nottetempo nei locali dell'istituto Sereno Vulpita. Devono rispondere di furto aggravato in concorso. Ad Absalem Boubaker è stato contestato anche il reato di resistenza pubblico ufficiale, portodarmi o oggetti a tetto offender, lesioni aggravate. Avrebbe colpito con calcio e pugno un agente della squadra volante. E di lesioni personali aggravate è accusato anche Shazil Salim. Anche lui avrebbe picchiato un poliziotto. Processati per direttissima sono stati condannati e subito rimessi in libertà. Nel mirino dei responsabili dell'incursione, i distributori collocati dalla ditta Coffie Express di Peppe Tagliavia al piano terra dell'immobile di via Segesta che ospita gli anziani. L'allarme è scattato la scorsa notte intorno a Luna. Il tempestivo intervento degli agenti della volante ha mandato a monte il piano dei ladri che sono stati catturati in fragranza di reato. Sulla vicenda è intervenuto Antonio Sparaco, presidente dell'istituto Sereino Vulpitta. Innanzitutto una puntualizzazione. I tunisini non sono vostri ospiti? Assolutamente no. Non sono ospiti del CAS, del centro di accoglienza straordinaria per gli estracomunitari. Sono dei cittadini trapanesi, anche se di origine estracomunitaria. Sono dei delinquenti, tra virgolette, normali, insomma, che purtroppo la città di Trapani sta vivendo questo grosso problema della criminalità. Devo ringraziare il questore Maurizio Agricola per il tempestivo intervento dei suoi uomini che ha fatto sì che la situazione non degenerasse. Ma devo dire anche un'altra cosa, cioè che l'istituto è in piena sicurezza, non c'è nessun problema. Noi andiamo avanti lo stesso, siamo tranquilli. C'è un'ottima convivenza fra i vari reparti, gli ospiti dei vari reparti dell'istituto, per cui non c'è nessun problema per questo.